Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo parlando nuovamente del caso della discarica di bussi. Prima udienza questa mattina all'Aquila per il processo d'appello sul max inquinamento della discarica di bussi che vede imputati i vertici del gruppo Montedison. Rigettata la richiesta di slittamento del procedimento all'estate. Si arriverà a sentenza entro il 31 gennaio 2017. Tornerà in aula il prossimo 11 gennaio 2017 il processo per la mega discarica dei veleni di bussi che dopo la sentenza di assoluzione per i vertici di Montedison in corte d'assise di Chieti, per la quale non sono mancate polemiche e inchieste su presunte pressioni sui giudici, oggi è tornato in aula per iniziare il percorso in appello. Dopo una breve camera di consiglio il collegio giudicante della corte d'assise Aquilana preseduto da Aldo Manfredi ha respinto l'istanza di unio degli avvocati difensori, Tullio Padovani che assiste Guido Angiolini, amministratore delegato di Montedison dal 2001 al 2003, che aveva chiesto la sospensione del processo e il rinvio all'estate in attesa che la corte costituzionale si esprima sulla legittimità della legge Girelli, che ha ampliato i termini di prescrizione del reato di disastro colposo da 7 anni e 6 mesi a 15 anni. L'avvocato Padovani aveva chiesto al collegio giudicante di attendere la prossima udienza della corte costituzionale, che a sue dire si potrebbe svolgere tra maggio e giugno dopo lo slittamento per dimissioni di un giudice relatore. La procura generale, rappresentata dall'avvocato Romolo Como, si è rimessa alla decisione del collegio, evidenziando che in ogni caso sarebbe stato sospeso il termine della prescrizione per i reati su cui si procede. Il collegio alla fine ha stabilito di valutare sulla legittimità costituzionale assieme alla decisione che, secondo il calendario, arriverà entro il 31 di gennaio del prossimo anno. Secondo le parti civili l'istanza era comunque irrilevante perché il reato di disastro colposo è già stato prescritto. Il disastro doloso invece rischia la prescrizione entro la primavera del 2017. L'Arta farà controlli per verificare lo stato dell'arte dell'inquinamento della mega discarica dei veleni di bussi. Lo ha detto il direttore tecnico dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale Giovanni Damiani al termine della prima udienza del processo relativo appunto alla mega discarica. Dopo molte istanze stiamo stabilendo la data per il prelievo dei campioni sul sito di interesse nazionale che faremo sotto l'alta sorveglianza del corpo forestale dello Stato. Ancora la cronaca tragedia sulle strade del Lancianese. Ieri mattina una Opel Corsa ha centrato un 66enne ferito gravemente l'amico con il quale passeggiava e travolto anche i loro due cani al seguito. Il 21enne alla guida del mezzo è indagato per omicidio stradale. Un colpo di sonno pochi attimi e poi lo schianto sulla strada di località Castello tra Selva d'Altino e Castelfrentano nel Lancianese resta a terra senza vita Pasquale Altobelli, 66enne, ex operaio Sevel in pensione, travolto dalla Opel Corsa guidata da un 21enne di Altino. Oltre al pensionato originario di San Vitochietino viene travolto e ferito in modo grave anche un 50enne Antonio Di Biase, imprenditore agricolo. I due attorno alle 7 di ieri mattina stavano facendo una passeggiata assieme ai loro cagnolini, entrambi travolti e morti nello schianto e camminavano sul ciglio della strada quando alle loro spalle è arrivata la vettura guidata dal 21enne che complice un colpo di sonno li ha centrati in pieno, terminando la sua folle corsa senza segni di frenata sull'asfalto qualche metro più in là nei campi dopo aver scavalcato un muretto di cemento alto una trentina di centimetri. Altobelli è morto sul colpo stando alla ricostruzione dei carabinieri per aver battuto con la testa sul cordolo di cemento a bordo strada. Di Biase invece sarebbe rimbalzato sul cofano urtando con la schiena su parabrezza per poi finire sul sedile del passeggero. E' stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti con gravi ferite alle gambe e alla colonna vertebrale. Illeso invece il ragazzo alla guida che qualche chilometro prima si era fermato proprio perché assonnato. Il 21enne è risultato negativo ai test tossicologici effettuati all'ospedale di Lanciano e indagato per omicidio stradale. Io ho visto che il ragazzo piangeva là e cercava aiuto, aiuto. Io sono troppo nata l'autobulanza. Quello lì che è morto stava per terra e quell'altro che stava dentro la macchina che ha spuntato il parabrezza e che era cosciente. Un boato ha svegliato alle 5 di questa mattina gli abitanti di Cupello dove un incendio è scoppiato in una cabina di decompressione della rete di distribuzione del gas. Sul posto in località Monte Calvario sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto i quali hanno domato le fiamme e sospeso il flusso del gas. Sul posto anche i carabinieri del gruppo radiomobile della compagnia di Vasto che invieranno un rapporto alla Procura della Repubblica. Da quanto accertato all'origine dell'incendio, che non ha coinvolto persone, vi sarebbe un guasto tecnico. Oggi e domani niente gas quindi per gli oltre 7 mila residenti di Cupello e Monteodorisio per consentire interventi di riparazione. L'Abruzzo del manifatturiero è in crescita, lo dice un'indagine del Cresa che registra un incremento dell'8,4% sull'export e dell'1,4% nell'occupazione all'interno del terzo trimestre del 2016. Terzo trimestre 2016 con il segno più per l'Abruzzo. A renderlo noto è un'indagine del Cresa che ha preso a campione 448 imprese con almeno 10 addetti del manifatturiero, un più 2,4% per la produzione, un più 5,5% di fatturato, 8,4% in più per l'export e un 1,4% per l'occupazione. Tutti dati positivi, dati estremamente importanti perché finalmente si può iniziare a parlare di svolta all'interno del nostro territorio. Il dato caratteristico è comunque noi parliamo di aziende al di sopra di 10 dipendenti. Era un dato atteso e soprattutto era previsto un aumento di questa portata? Diciamo che non era previsto un dato di questa portata, l'importante sarà però vedere come si coniuga con i dati di tutto il sistema imprenditoriale perché poi abbiamo le imprese di sotto 10 dipendenti che sono un pezzo sostanziale del nostro tessuto produttivo. Resta l'export la voce più importante per l'Abruzzo e l'automotive, il settore che crea più ricchezza per il territorio, Europa, Stati Uniti, paesi di riferimento per le esportazioni. La Germania rappresenta la fetta più grande delle esportazioni regionali così come di quelle italiane. Oltre il 60 e il 70% circa dell'export regionale si dirige, sono quasi tutti mezzi di trasporto come è noto. Quote più ridotte riguardano gli Stati Uniti, in particolare l'elettronica e più diffusamente per quanto riguarda il chimico e farmaceutico il mercato sempre europeo è meno concentrato di quello automobilistico, riguarda anche Francia, Spagna, Germania. E nel comparto dell'agricoltura in Abruzzo gli infortuni sono in calo, lo dice una indagine di Coldiretti. In Abruzzo infortuni al minimo storico. Sono 1.306 gli infortuni che si sono verificati nei campi abruzzesi nei primi dieci mesi del 2016 con un calo del 3% rispetto allo stesso periodo del 2015, un dato che conferma un trend che negli ultimi cinque anni ha visto diminuire del 21% dal 2011 al 2015 il numero degli incidenti in agricoltura. I numeri sono emersi nel corso di un convegno in presa qualità reddito, nuove norme sul lavoro agricolo che si è svolto all'Aquila. Un incontro promosso da Coldiretti in collaborazione con l'Osservatorio nazionale sulla criminalità in agricoltura per fare il punto del lavoro non nei campi, ma non solo dal punto di vista infortunistico e di sicurezza. Il convegno è stata anche l'occasione per approfondire le nuove norme contenute nella recentissima legge 199-2016 che disciplina e regolamenta il lavoro in agricoltura, anche prevedendo pene più severe e rigorosi controlli in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e del realinamento retributivo nel settore agricolo. Una normativa complessa, come è stato evidenziato nel corso del convegno, ma anche un importante tassello nel percorso di trasparenza e legalità che deve essere alla base del lavoro dell'impresa agricola e che in Abruzzo ridisegna diritti e doveri per oltre 2.500 aziende agricole, assuntrici di mano d'opera anche extracomunitaria. In particolare nel corso dell'incontro è emerso come la nuova normativa rappresenti un primo importante passo avanti rispetto al passato, ma dovrà trovare aggiustamenti per quanto riguarda una più equa proporzionalità delle pene previste per i vari reati, tutti deprecabili ma con livelli diversi di gravità. Hanno affermato i relatori durante il convegno, secondo col diretti Abruzzo, pene severe e rigorosi controlli sono necessari perché l'illegalità determina una concorrenza sleale nei confronti delle aziende che lavorano onestamente, ma è anche necessaria una grande azione di responsabilizzazione di tutta la filiera dal campo alla tavola per garantire che dietro a tutti gli alimenti italiani e stranieri ci sia un percorso di qualità che riguarda l'ambiente, la salute e il lavoro con un'equa distribuzione del lavoro del bene alimentare che non penalizzi nell'impresa che lavora onestamente nei lavoratori. Montesilvano ospiterà 135 immigrati e lo farà utilizzando lo SPRAR, ovvero il sistema di protezione dei richiedenti asilo ai immigrati, un percorso di integrazione assistito per chiudere i centri di accoglienza. Il servizio di Francesca Romana Testi. Una nuova organizzazione per l'accoglienza dei rifugiati e immigrati nel territorio di Montesilvano. A metterle in atto il sindaco Francesco Maragno che ha annunciato la chiusura definitiva dei cosiddetti centri di accoglienza in favore dello SPRAR, il sistema di protezione dei richiedenti asilo ai rifugiati. Vogliamo farci capofila nel ricevere e dare quindi ospitalità ai richiedenti asilo aprendo un centro SPRAR che diventa incompatibile con la presenza dei due casse attualmente in esse sul territorio di Montesilvano. Non vogliamo un'accoglienza qualificata, un numero estremamente ridotto di richiedenti asilo. Infatti potremmo ospitare in massimo 135 profughi a fronte degli oltre 300 oggi presenti e soprattutto non vogliamo danneggiare una città a vocazione turistica e quindi questa ospitalità verrà pianificata dal Comune di Montesilvano in collaborazione con l'azienda speciale e non terrà in considerazione minimamente le strutture alberghiere. In questo caso quelli che sono considerati contributi per gli immigrati a chi andranno? Andranno direttamente all'ente per far sì che possa erogare servizi e possa produrre integrazione. Un modo per avere più controllo nel percorso di integrazione con il territorio, spiega il sindaco. Una riduzione del numero da oltre 300 a 135 è l'obiettivo di poter occupare richiedenti con lavori socialmente utili come avviene da qualche tempo. È un fenomeno molto complesso, sappiamo che è un percorso non semplice però sappiamo altrettanto bene che il problema per come è gestito adesso è del tutto, la soluzione a questo problema è del tutto inefficace. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, dobbiamo venire in conto a quelle che sono le esigenze dei cittadini e anche venire in conto a quelle che sono le esigenze degli operatori turistici che oggi sono fortemente danneggiati. Oggi si è riunita a Francavilla al Mare la commissione controllo per affrontare la questione di Palazzo Sirena e muro contro muro tra maggioranza e opposizione. Paolo Renzetti Nelle mie linee di mandato che invito i cittadini a leggere c'è una città rinnovata che guarda il futuro tra i vari passaggi che ci sono c'è anche quello dell'abbattimento del vecchio Palazzo Sirena una situazione che questa città si porta avanti da oltre 30 anni un palazzo chiuso che rappresenta il simbolo del degrado per tutte le nuove generazioni noi risolveremo il problema con la riqualificazione ma soprattutto risolveremo il problema facendo partire il nuovo auditorium appena ristrutturato che sarà un centro nevralgico per il futuro della nostra città. Noi più che muro contro muro abbiamo trovato un muro anche abbastanza alto eretto dalla maggioranza che non ci ha permesso la settimana scorsa di riunirci in commissione di controllo e garanzia per esaminare gli atti e la legittimità di questi atti posti in essere dagli uffici. Insistiremo per verificare la regolarità degli atti la richiesta dei pareri alla sovrintendenza se sono stati effettuati e soprattutto vogliamo rimarcare un fatto che quel palazzo è una risorsa per la città e che se oggi è chiuso da diversi anni la colpa è soltanto dell'amministrazione Luciani che volutamente l'ha lasciata all'abbandono proprio per poter oggi dire e rivendicare una presunta inutilizzabilità del palazzo che nei fatti non c'è. Giornata di festa a Teramo per ricordare San Berardo, santo patrono della città. Come tradizione vuole, sin dalle prime ore della mattina, la fiera del 19 dicembre. ha invaso il centro storico mentre nel pomeriggio si è tenuta la celebrazione solenne in cattedrale e la benedizione sul sagrato della chiesa con le reliquie del santo protettore del servizio di Tania Bonici Castelli. Il 19 dicembre, come tradizione vuole, il centro storico della città di Teramo si anima con i tradizionali banchi della fiera di San Berardo, patrono del capoluogo. E' l'aspetto pagano di una festa che è prettamente religiosa e che trova il suo culmine nella processione del pomeriggio e la celebrazione in cattedrale. Durante la messa ufficiata dal vescovo Michele Seccia, il sindaco da sempre offre alle autorità ecclesiastiche un cero, omaggio della comunità teramana devota al suo patrono. Nel corso della cerimonia è particolarmente suggestiva l'esecuzione del solenne inno a San Berardo scritto da Nicola Dati, maestro di cappella della cattedrale di Teramo. Si tratta di un inno grandioso, eseguito una sola volta l'anno, dedicato al santo e alla città di Teramo. Al termine della cerimonia, il vescovo sul sagrato della cattedrale benedice la città con le reliquie del patrono, un braccio del santo conservato nella cappella che porta il suo nome all'interno del duomo. La santità del vescovo Berardo fu decretata per un miracolo da lui compiuto. Si narra che nel 1521 fu evitato l'assedio degli Acquaviva che avevano circondato la città di Teramo con 5.000 uomini, grazie all'intercessione della Madonna e di San Berardo che li misero in fuga con la loro apparizione. Dopo 500 anni la simpatia dei teramani verso questo santo è ancora molto forte, complice anche la giornata di vacanza da scuole ed uffici che lo rendono irresistibile. Piccola grande novità a TV6, infatti da venerdì scorso, giorno dell'inaugurazione è ufficialmente operativa la nuova sede teramana della nostra emittente. Qui vediamo le immagini. Grazie all'accordo con il gruppo Consorform, la redazione è situata proprio nel cuore del centro storico in Piazza Martiri, da dove TV6 racconterà attraverso il lavoro dei tecnici e della collega Tania Bonici Castelli se è possibile ancor più da vicino le vicende della città. Alla serata di inaugurazione sono intervenute le massime autorità politiche e militari oltre a tantissimi altri esponenti della società civile a dimostrazione dell'affetto per TV6 che in questi anni è stata sempre vicina alle sorti del capoluogo aprutino cercando di raccontarne ogni aspetto con obiettività e tempestività. Ed ora apriamo la pagina dello sport, parliamo di Serie A e di Pescara. Un Pescara ieri battuto a domicilio dal Bologna, Pescara anche contestato, Pescara che è scivolato all'ultimo posto per via della vittoria nel posticipo di ieri sera del Palermo in casa del Genoa. Per ritrovare maggiore serenità la squadra è partita questa mattina in ritiro a Roma. Oggi una seduta di allenamento alla quale non hanno preso parte gli infortunati Pepe, Mitrizza e Baebec. Domani la squadra sosterrà una doppia seduta. Poi mercoledì ci sarà il charter che porterà la squadra di Massimo Oddo da Roma a Palermo per la disputa della partita giovedì sera alle ore 20.45. Ieri dopo la partita persa malamente contro il Bologna è intervenuto ai nostri microfoni il centrocampista Ahmad Benali che si è assunto la responsabilità della prestazione lui con tutti i compagni di squadra. Vediamo. Tutti hanno visto la partita però io sono venuto qua perché voglio sottolineare quello che dicono loro fuori ho visto attacchi sulla società, sullo staff che ci siamo preparati bene durante la settimana sul primo gol che abbiamo preso ci siamo arrivati bene su quello abbiamo fatto 5-6 volte durante la settimana quindi quello che ci ha fatto il final miss non è sicuramente colpa sua noi come giocatori dobbiamo prendere la responsabilità di quello che abbiamo fatto oggi per quello che sono venuto qua a mettere la faccia sicuramente colpa di tutti però non è sicuramente colpa del mister, non è colpa del presidente tutto quello che è successo oggi è successo perché... Il campo ha detto questo? Bravo, il campo ha detto questo quindi... Io chiedo a Ben Ali, anche perché sono arrivati anche tanti messaggi in studio questa squadra è con il suo allenatore perché qualcuno parla di uno spogliatoio con dei problemi No, 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 io sono venuto qui per chiedere quello la squadra del 100% col mister Oddo io sono venuto qua perché lui è il primo gol che abbiamo preso ci siamo allenati su quello tutta la settimana e poi il secondo gol ci ha detto di stare stretti non fa passare la palla dentro, la palla è passata dentro quindi non è che può scendere in campo quindi sicuramente la squadra sta con lui, la squadra sta dietro a lui e passa L'ultima cosa, prima di lasciarti ai colleghi, tu hai detto delle contestazioni, non parlo però giocare in questo momento in un ambiente così complicato non è facile, non agevola il vostro lavoro? Sì, però se non puoi giocare con i fischi non puoi giocare calcio, basta e gli uomini della Digos, della questura di Pescara sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto ieri all'Adriatico al 91esimo della gara di campionato contro il Bologna quando 300 Ultras che avevano abbandonato gli spalti 20 minuti prima della fine del match si sono portati all'esterno dello stadio per contestare la squadra e i dirigenti ne è nato per un fitto lancio di pietre verso gli uomini delle forze dell'ordine che presidiavano il piazzale antistante, l'impianto sportivo diversi anche i petardi fatti esplodere dai supporters nelle prossime ore inizierà la visione delle immagini, delle telecamere per individuare eventuali ultra inerenti intenti al lancio delle pietre molti tifosi erano travisati e agevolati dall'oscurità quella di ieri è stata la seconda contestazione nei confronti dei biancazzurri che già lunedì scorso al porto turistico prima della cena di Natale avevano fatto i conti con il malcontento di una parte della tifoseria e ora scendiamo in Lega Pro ieri si è giocata l'ultima giornata di andata del Girone B il Teramo ha pareggiato al Bonolis contro la Feralpi Salò per 2 a 2 un gol di Antonio Croce al 93esimo ha evitato il quinto tonfo casalingo stagionale per la squadra biancorossa un pari utile solo in parte per la classifica e che non cambia una prestazione complessiva per effetto anche di alcune scelte iniziali totalmente da rivedere il Teramo firma il 2 a 2 nel finale contro la Feralpi Salò risultato che lascia il biancorosso in zona play-out girando al termine del Girone di andata a quota 18 punti in classifica al termine della gara Zauli non parlerà di un caso Sanzovini chiaro che però qualcosa è cambiato se l'attaccante del Pescara, prima titolare inamovibile parte adesso per la seconda volta consecutiva dalla panchina aprendo di fatto scenari per il prossimo mercato non solo, al suo posto Zauli preferisce Di Paolo Antonio chiamando Bulevardi a fare di fatto il trequartista 3 minuti e la Feralpi avanti dagli sviluppi di un angolo Romero coglie il palo ma a raccogliere il pallone poi, pronto, c'è Ranellucci a rientro che beffa Rossi il portiere del Teramo sarà protagonista nel primo tempo Rossi sarà protagonista ma questa volta in negativo sul raddoppio della Feralpi quando sbaglia il rinvio mettendo di fatto in moto Settembrini atterrato poi in area da Sales a trasformare dal dischetto ci pensa Guerra il Teramo è soprattutto Di Paolo Antonio che firma il momentaneo pare dei biancorossi da calcio di punizione che lo stesso giocatore è bravo a conquistarsi la traiettoria bassa beffa Livieri che non può fare nulla per evitare il pareggio del Teramo dopo il raddoppio della Feralpi è ancora Di Paolo Antonio a cercare la via della porta ma Livieri sul suo tiro a giro di destro compie un grande intervento Zauli allora cambia inserendo Carcais e Sansovini al posto di Peterman e Bulevardi non cambierà invece il Teramo che farà un'estrema fatica a costruire azioni degni di nota ci prova Croce dalla distanza senza esito dopo essere riuscito ad intercettare un pallone della difesa la gara cambia nel finale prima ci sono le proteste biancorosse per un presunto tocco di mano in aria non ravvisato dal direttore di gara quando tutto sembra perduto Croce mette in rete un tiro al volo di Sansovini ribattuto per il Teramo è un pareggio che muove la classifica ma che non cambierà alcune considerazioni sulla solita prestazione casalinga della squadra venerdì si torna già in campo per ospitare il Lumezzano nella prima giornata di ritorno il cambio di passo ora non si può più rinviare Teramo che sarà di nuovo in campo venerdì prossimo 23 dicembre alle 14.30 sempre al Bonolis contro le Lumezzane sarà la prima giornata di ritorno e ora in serie D parliamo del pareggio del San Nicolò in casa della Civitanovese un pari arrivato nel finale quello della squadra marchigiana e che fa sfumare il titolo d'inverno per l'11 di Massimo Epifani il sogno bianco celeste svanisce un San Nicolò sciupone impatta al polisportivo di Civitanova contro i giovani rosso-blu tutto cuore abruzzesi arrivati da primi della classe e vogliosi di chiudere in testa il girone di andata e laurearsi i campioni d'inverno padroni di casa per allontanarsi assolutamente dalla zona calda della classifica a automozioni per il San Nicolò al suo esordio Daniele Bosi è arrivato per sostituire Napolano vittima di un grave incidente al ginocchio e proprio Bosi al quinto rende pericolosa un'azione degli ospiti infilandosi sulla fascia ma il cross al centro viene intercettato riparte la Civitanovese al sesso ma sprega un'occasionissima Battistelli riesce quasi a beffare Ciotti già a terra ma il tiro finisce di poco alto sopra la traversa al tredicesimo pericoloso scambio in aria tra i biancazzurri Bosi bisegna ma la difesa ribatte due volte fino ad allontanare sale di tono la squadra di Epifani in campo con pressing crescente anche se i padroni di casa provano in tutti i modi a sbloccare la gara ed è la Civitanovese però al diciannovesimo la clamorosa occasione da gol il tiro dalla distanza di Raffagnani si stampa sul palo alla sinistra di Ciotti al ventiduesimo cross di Di Stefano per la testa di Traini sfua per un soffio l'aggancio di Bosi sottoporta pochi secondi dopo sempre Bosi tenta il tiro ma col guantone Ferreri mette sul fondo il gol arriva al trentaduesimo con una bomba dai venticinque metri di stivaletta alla sua quarta rete stagionale che spiazza con una traiettoria velenosa Ferreri tutta la panchina bianca azzurra invade il campo reclama un calcio di rigore al quarantesimo la Civitanovese per una presunta trattenuta in area su Battisti ma il signor Donda fa proseguire ripartono forti entrambe le formazioni il San Nicolò al settimo ritenta l'assalto col solito stivaletta palla a lato al quindicesimo Battisti tira forte ma il pallone a fil di palo Ciotti segue con lo sguardo la palla sul fondo Epifani mette in campo Massetti decisivo nell'ultimo a basto esce Bosi occasionissima per la Civitanovese al ventesimo con Rapagnani di testa vicinissimo al gol ma salva Traini sulla linea pareggio sfumato brivido al polisportivo in campo Moretti per il San Nicolò al ventiquattresimo per Bisegna Maresca prende il posto di Mancinelli nella Civitanovese al ventisettesimo sfiora il raddoppio il San Nicolò con Moretti che cavalca la fascia la mette al centro la difesa libera con Tortelli che anticipa Massetti e la palla finisce sulla testa di Traini che però la stampa sul palo la Civitanovese non si arrende arriva il pareggio al 35esimo con Maresca sul filo del fuorigioco su un lancio dalle retrovie piazza una diagonale che beffa difese e portiere finale da ritmi altissimi il San Nicolò assalta con Massetti prima e poi con una cavalcata di Traini al 45esimo che in contropiede azzarda e pallonetto ma troppo alto sopra la traversa il polisportivo reclama il fuorigioco si lotta in campo fino all'ultimo dei 5 minuti di recupero il San Nicolò tenta il tutto per tutto per strappare i tre punti ma un'attenta difesa rosso-blu chiude ogni varco finisce 1-1 al polisportivo un punto d'oro per la Civitanovese troppe clamorose occasioni sprecate invece dal San Nicolò per chiudere il girone di andata con altri tre punti si deve accontentare del 14esimo risultato utile consecutivo mentre sul trono del torneo si siede la fermana cambiamo disciplina questa mattina si è svolto un sopralluogo dei tecnici della Federazione Internazionale al Circolo Tennis per valutare la capacità dell'impianto di ospitare ad aprire un ATP Challenger Tour vediamo possiamo dire che è ufficiale questo torneo si aggiungerà agli altri circa 15 20 eventi che ci sono in Italia durante il prossimo 2017 vogliamo un attimo spiegare di che tipo di torneo stiamo parlando un torneo prestigioso si è un torneo ce ne sono 140 in tutto il mondo nella settimana che si disputerà il torneo qui a Francavilla ce ne saranno massimo due in tutta Europa quindi sono 5 tornei circa ogni settimana è un torneo con un monte premi importante che assegna soprattutto dei punti importanti per la classifica mondiale noi quest'anno grazie al fatto che l'ATP ha giunto una settimana al calendario tennistico chiaramente diverso da quello solare siamo riusciti a ottenere visto che sono 11 anni ormai che organizziamo questo tipo di eventi a giudicarci questa settimana supplementare c'erano altre regioni che aspiravano a prendere questa data ma insieme al direttore del torneo Luca Del Federico siamo riusciti a portarlo qui a Francavilla e siamo contenti di questo a Francavilla arriveranno tantissimi atleti da tutto il mondo sì da ogni parte del mondo le iscrizioni sono illimitate quindi saranno iscritti anche 350 giocatori è chiaro che di questi solamente 64 parteciperanno a questo torneo i primi della classifica la crisi del pescar sarà l'argomento principale della trasmissione di questa sera in diretta dalle ore 21 replay di Enrico Rocchi non mancate il TG6 invece torna con la terza edizione delle ore 23 grazie per l'attenzione e buona serata grazie a tutti